in una ciotola mettere un chilo di farina mezzo chilo di zucchero sette uova mettere 200 g di olio d'oliva 100 g di frutta caldita 15 g di cremore di tartaro 15 g di bicarbonato di sodio 150 g di mantole tostate a pezzi un bicchiere di latte puoi aggiungere se si vuole uva passa quanto basta puoi iniziare a mescolare successivamente lavorare l'impasto sul piano da lavoro fino a che non sia amalgamato perfettamente musica se occorre utilizzare un po' di olio per evitare che la pasta si appiccichi alle mani dopo averlo amalgamato dividere l'impasto in più forme io per comodità realizzo dei piccoli filoncini così è più facile tagliarlo tenete presente che l'impasto in forno lievita ora è possibile infornare a 160 gradi per 15 minuti circa ovviamente dipende dal tipo di formi che avete se avete bisogno di tagliare ricordate che dovete farlo solo se l'impasto è perfettamente raffreddato ecco il risultato e spero che questa video ricetta vi sia piaciuta mi raccomando lasciatemi un commento se provate a realizzarla ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao